Intorno alle isole Ega di allargo della costa occidentale della Sicilia, tra romani e cartaginesi giunse il giorno della resa dei conti. Era lì il 10 marzo 241 a.C., quando da tempo le tensioni tra le due superpotenze dell'antichità erano al culmine. Entrambe avevano un solo obiettivo. Il controllo sul Mediterraneo. Tutto era nato da quello che sembrava uno scontro di poco conto nel 264 a.C. Ma da allora e nei successivi vent'anni le battaglie divennero numerose e sempre più dure, impoverendo la flotta e le finanze romane. Nel 243 a.C. I privati cittadini romani più dovettero finanziassero una nuova flotta perché era del tutto scontato che la guerra sarebbe stata condotta soprattutto in mare. Nella battaglia delle isole Ega di la Marina Romana venne sostanzialmente distrutta e Roma fu costretta ad un trattato, che includeva il ritorno di tutti i prigionieri di guerra, un pesante tributo annuale e il ritiro dalla Sicilia e dalle sue isole minori. I cartaginesi a quel punto non si sarebbero mai aspettati nuovi tentati romani per tornare alla guerra e trascurarono di potenziare la loro forza navale. Pertanto, furono presto sconfitti, perdendo 50 navi, che vennero affondate e 70 catturate con i loro equipaggi. Recenti esplorazioni subacquee nello specchio d'acqua di quelle battaglie, nei pressi dell'isola di Levanzo, hanno portato alla luce i resti di diverse navi che furono impegnate in quella storica battaglia finale. I subacquei hanno restituito soprattutto i rostra, iscrizioni in latino e in punico, arieti in bronzo che venivano montati sulla parte anteriore delle navi da guerra per colpire le navi nemiche. Nei rostra romani leggiamo i nomi dei magistrati incaricati dei lavori, come i questori Lucio Quinzio, Marco Pubblico e Caio Papirio, e riportano i simboli di vittoria, come elmi da battaglia piumati e personificazioni alate della vittoria. Quegli eventi indussero Siracusa a passare dalla parte dei romani, dopo una breve alleanza iniziale con i cartaginesi. Il reggerone II divenne fedele a Roma e ottenne che il suo territorio e gli abitanti venissero trattati dai romani meglio rispetto al resto della Sicilia, ricevendo lo status di alleato e godendo di una certa indipendenza quando l'isola divenne la prima provincia ufficiale dell'impero romano. Meno di trent'anni dopo, però il nipote di Gerone II, Geronimo, dichiarò guerra a Roma, nel tentativo di ottenere la completa autonomia e si schierò con i cartaginesi sin dall'inizio Seconda Guerra Punica. Siracusa venne assediata dai romani per quasi tre anni, dal 213 al 211 a.C., durante i quali Siracusa fu difesa dalle ingegnose invenzioni di Archimede fincello scienziato siciliano non venne ucciso e la città fu definitivamente occupata dal generale romano Marcello. Siracusa perse così la sua autonoma e tutta l'isola passò a Roma. Grazie a tutti.